Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Porca merda No raga io non ho il condizionatore E vi giuro in questa sala Fa un caldo vergognoso Per quanto mi riguarda io andrò avanti con Fortnite Ma tu sei qua solo oggi? E io ieri ero a Padova vedere i rastri Ho fatto Padova ieri Ma c'era Lazza ieri sera Ragazzi c'era Lazza ieri sera, ce lo siamo persi mi spiace cazzo Cazzo che peccato Guarda preferivo guardare un muro giallo nel senso però Tu ascolti Lazza No no Cioè non lo dico c'era tanta gente Cioè non lo è chiaro AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA No it's you Uff 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 no raga arrivo Nettuno vuole arrivare? arrivo Nettuno io salgo l'aspetto arrivo Nettuno più così o con il buco? poi da dietro non esce si la puoi meli ma si sta da dio piano piano si piano piano si annuvola e dobbiamo aspettare fino alle 7 raga sono le 4 quindi 3 ore ancora belle no aspetta raga aspetta un attimo ma io non vedo un cazzo raga l'avete sentita l'avete sentita un momento raga un momento raga becose is amio mattia luise fedecarnio samuele ma è veramente becose no era scritto am però penso che sia am no vuole salutare qualcuno di questi ciao a tutti quanti dice Nettuno mi raccomando punto esclamativo band sto andando a salutare con Nettuno mentre ci matcha il signor Merix U39 Andrea Mastroia è qua e io posso lo gambitano così mi raccomando leccato non è aleccato possiamo tornare adesso a lavorare felice mi raccomando non so cosa fare Nettuno mi pushano 4 team cosa devo fare Nettuno io bella a tutti ragazzi sono qui in compagnia di un personaggio che conoscete sicuramente e non solo non è un caso insieme a me anche il nuovissimo set in base delle magic espansione signore degli anelli come vedete ragazzi è uscito oggi e contiene i tuoi mazzi perfetti per iniziare a giocare se non siete tanto bravi o se volete avvicinarvi a questo mazzi vi invito a provarlo e a scoprire tutte le potenzialità e ovviamente a seguire la pagina di Magic Italia giusto che la parola tu devi seguire no no raga torniamo a casa stasera poi torniamo il 5 il primo luglio adesso ragazzi gli scape spingono veramente forte è troppo WTF 100 abbonamenti regalati WTF ma che cazzo sta dicendo RAQUER ma veramente non mi è mai successa una cosa del genere no racchier raggiù di qua lo so stiamo vedendo cose facciamo facciamo sembra che ha visto gesù c'è dietro una bentley la persa c'è un ragazzo che dice che c'era dietro una bentley no nel senso è passata una bentley porca bernarda io arriverò top 500 al mondo in realtà no toni al contrario buongiorno andrea 13 ciao bello mentre ormai di nuovi mod non lo so adesso torno se non mi metcio entro due minuti ciao tua madre quella brutta puttana di merda succhiatrice di cazzi lunghi due chilometri e prenditrice di cazzi nel culo sta puttana lena buongiorno pier buongiorno ciupolotto matte bene il nico mario buongiorno anche a filo er puma de verona luigi francesco merighi bozzano jazzone andilox meri buongiorno anche a gigiolone frataos ricky pinto danielino buongiorno anche a sandro lorenzo dba fda bff b non sappiamo bene il codice fiscale buongiorno anche ad elettroshock francesco chiarantoni e iari gabri lidona gius un saluto grande ovviamente anche a tutti gli amici che ci seguono da chip shop buongiorno amici ok e borco diaz no racker racker no racker non c'è mi ha fatto prendo che è successo è appena arrivato a 100 euro con la super chat è appena arrivato merda no dai racker non ce l'ho racker 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 devo registrarlo devo registrare proprio questo alert qua aspetta un attimo stia li stia li stia li ho capito il suo pianto di i aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa oooooh Caccia d'entra rimane, caccia d'entra rimane Io non si può neanche rispondere a mia sorella A nessuno non si può rispondere Realmente non abbiamo la possibilità di Sare mille sudate Dai l'ultima ravanata Dai l'ultima ravanata Ultima ravanata di mille veloce Mannaggia che si può più toccare In questa famiglia Il problema c'è Ciao ragazzi Ma le cose le dice con gentilezza Ci mancherebbe Dicono di aspettare un attimino Ma una volta ragazzi Tutti amici, tutta grande festa Era sinceramente Garzia Guardi che la chiamiamo Io non so se lei è il ragazzo che ci ha lasciato Il numero mi faccia finire questi altri